Cioè, è inqualificabile, proprio. Eh, esatto, quello lì. Stagliene! Sono le fede. Questa di qua, la prendo, rimango così, e alzo. Alzo il piede su loro che lo facciano in tutti i modi diversi. C'era sulla, ragazza, quella che sembra una bambolina, come si chiama. Anna... Ah, le fede, dai. Sì. E lei andava a spallare. Chi è? Ci ho fatto capire. Eh, perché sembra una bambolina. Chi è? Biondina. Sì, biondina. La prende le tiglie. Sì, sempre tiglie. Chi è? Sì, sì. E lei andava a spallare. Anna Lina. Ah, ho letto, ho letto. Ho chiuso qualcosa. Ecco, dai. E anche lei mi era di che ne ha provato un po' di volte. Non ho sbagliato a provarlo. Sì, sì, sì. Hai che c'è? Ali! Ho scivolato il piede. Ok. Però l'ho fatta in un'altra maniera. È lì c'è un'area, no? Cioè, quello... Maggie! Sì, sì. Non lo so. E comunque sei... Ah, ha le... Non sei tanto... Non sei tanto... Questa qua, ce l'ho così e non riesco a girarla così. È stata fatica. Quando vado a girarla...